Mi sa dire qualcosa sull'amicizia? Ecco, anche qui vorrei dire qualcosa, si può dire molto sull'amicizia, ma preferisco dirti un racconto sull'amicizia, in modo che da lì si può capire e poi il discorso non diventa troppo pesante, cioè un giorno due amici camminavano nel deserto e a un certo punto parlavano eccetera, a un certo punto uno di questi dà uno schiaffo al suo amico, forse non vi desidero il discorso, forse non lo so, poi è andato il mio schiaffo. L'altro è stato zitto e sulla servia ha scritto, oggi il mio migliore amico mi ha dato uno schiaffo. Basta, hanno continuato a camminare, arrivano un po' di oasi e questo che ha ricevuto lo schiaffo, a un momento stava mirandoli, l'altro lo ha salvato. Allora scrive questo che è stato salvato, sulla pietra, stavolta scrive sulla pietra, il mio migliore amico oggi mi ha salvato. E allora quello dice, ma come mai? Prima l'hai scritto sulla sabbia che ho picchiato e adesso lo scrive sulla pietra? E dice, perché prima tu mi hai offeso e io l'offesa che ho ricevuto la devo dimenticare come il vento che passa sulla sabbia e toglie tutto, quindi cancella quello che io ho scritto, così io devo cancellare dalla mia mente il mio zancore che mi era venuto. Mentre adesso ho scritto sulla pietra perché nessun vento possa cancellare questo gesto di amicizia che ho ricevuto. Grazie.